Oltre Banca Etruria, do il benvenuto al nostro ospite, il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e naturalmente a Nicola Vasai, direttore di TG38. Buonasera, partiamo subito con il tema del dibattito che ci siamo lasciati alle spalle, quota 100 e reddito di cittadinanza. Lei è preoccupato? Come li vede questi provvedimenti? Ma è un po' sì, diciamo che non so fino a che punto sono state fatte delle prefigurazioni numeriche per vedere qual è poi l'impatto complessivo sui conti del Paese e quindi una preoccupazione c'è. Al di là del fatto che quota 100 si porta dietro un livello di pensionamento di cui è noto solo oggi e noi se fatti i conti al Comune perderemo molte molte unità e quindi la preoccupazione è di non avere i tempi per riuscire a rimpiazzare chi con quota 100 andrà in pensione. Da questo punto di vista l'Anci ha lanciato, lei che in Anci ha anche un ruolo, ha lanciato un allarme, le pubbliche amministrazioni rischiano di rimanere un po' zoppe, pubbliche amministrazioni che però da tempo chiedono un ricambio, insomma si è sbloccata, adesso ci sono tanti concorsi anche sul territorio, adesso vanno via tutti insieme, è troppo repentino adesso questo cambio? Sì, è troppo repentino e soprattutto quello che viene proposto come nuovo sistema di reclutamento e quindi il concorso unico regionale diventa veramente un collo di bottiglia, oltretutto concorsi che dovrebbero fare non tanto una graduatoria di idonei ma soltanto coprire i posti per cui viene messo a concorso la disponibilità di assunzione, il che significa che se dopo aver assunto le persone una di queste trova collocazione altrove, si perde un posto e si deve fare un altro concorso, cioè non ci sarebbe più una graduatoria dalla quale poterà tingere anche in tempi successivi al concorso e questo francamente è difficilmente assorbibile dalle amministrazioni locali. Neanche i navigator del reddito di cittadinanza possono aiutare, come lo vede questo provvedimento da sempre, non un po' in viso, alla destra, comunque al pensiero del centro-destra? Diciamo che un reddito di cittadinanza ha significativamente un valore di equità sociale, se si vuole per certi versi, però di fatto è un costo eccessivo per il bilancio dello Stato, cioè al reddito di cittadinanza si è sacrificato tanta risorsa, risorsa che probabilmente poteva essere spesa meglio in altri settori, pur sempre nella copertura sociale delle persone, ma in maniera diversa, ad esempio con una politica sul lavoro di tipo più incisivo per consentire di riaprire gli spazi per i giovani e questo purtroppo è un tema che ancora oggi noi soffriamo moltissimo. Ma siamo pronti in Italia ad un provvedimento di questo tipo, insomma, senza voler pensar male per forza, però insomma qualcuno diceva che poi pensando male tante volte ci si azzecca. Funziona, funziona in Finlandia, ma in Italia siamo pronti. E appunto, non lo so quanto il nostro Paese era pronto ad accoglierlo. Io credo che questo Governo abbia fatto molto, ha fatto in fretta, devo dire che si sono messi al lavoro rapidamente. Sicuramente qualche analisi in più avrebbe portato un livello di consapevolezza maggiore e probabilmente ci avrebbe dato a tutti quanti una certezza maggiore per il futuro. Quello che a noi oggi, noi sindaci, ci mette particolarmente in difficoltà è la capacità scarsa di poter vedere cosa c'è dietro l'angolo. Cioè noi ci troviamo a dover gestire i provvedimenti dall'oggi al domani trovandoci in difficoltà. Un esempio per tutti è stato quello della temporanea negazione dei denari per il bando periferie, che a tanti capologhi di provincia avevano dato la possibilità di entrare in quelli che sono veramente il ventremolle delle città medie e questo fatto che ci sono stati prima negati, poi restituiti, ci ha fatto perdere da 4 a 6 mesi e oggi noi sindaci siamo a rincorrere una operatività che avevamo pronta nell'agosto dello scorso anno. Ma un altro provvedimento era quello della flat tax, a cui insomma la destra e il centro-destra teneva moltissimo, lo stesso Salvini l'aveva portato come un tema fondamentale, però nel contratto di governo non c'era, almeno non era in questa forma. Diciamo che questo è un po' lo scotto che si paga per questo governo, ora uso un termine brutto, bipolare. Cioè è un governo che ha due polarità decisamente contrapposte, che per poter governare si è dovuto vincolare a un contratto di governo. Quindi tutto chiaro, tutto scritto, però tutto fatto all'inizio del mandato e quindi senza poter considerare quali sarebbero stati poi gli effetti successivi. Quindi loro stanno andando avanti su certe cose anche bene, su altre con criticità che sta pagando tutto il paese. Governo che si è mosso anche su un tema che lei conosce suo malgrado bene, quello delle banche. Insomma anche il governo giallo-verde per quanto riguarda le banche venete è dovuto intervenire, con un provvedimento che somiglia molto a qualcosa fatto anche dai governi precedenti. Come lo giudica quel passaggio? Io ho dovuto gestire una crisi, lo sapete bene, legata a Banca Etruria, che ha comportato un impoverimento complessivo della città e quindi mi rendo conto che tutte le volte che si mette mano a un sistema bancario si crea comunque un problema. Si crea un problema nei risparmiatori, ma si crea soprattutto un problema nelle realtà produttive di una certa parte sulla quale avviene il provvedimento. Questo significa che le banche oggi stanno cambiando, stanno cambiando anche in virtù dei provvedimenti governativi, ma stanno cambiando struttura le banche perché evidentemente più tardi che in altri paesi europei anche il nostro sistema bancario si deve adeguare a un nuovo modo di fare credito. E quindi io lo giudico come uno che ha già dato e che quindi non può che guardare con grande attenzione a quello che avviene al suo contorno. Certo i due pesi e due misure non mi sono mai piaciuti. Banca Etruria insieme alle altre tre banche del famoso decreto salvabanche è quella che ha pagato più di altri e ha pagato la banca ma ha pagato il territorio retino. A distanza di pochi mesi Montepaschi è stato salvato con una provvista economica del governo molto maggiore rispetto a quella che sarebbe stata necessaria per salvare Banca Etruria. Perché era un'altra banca. Perché era un'altra banca. Io non ho mai messo in discussione il fatto che sia stato messo a mano al portafoglio da parte del governo per salvare Montepaschi perché è il secondo o terzo gruppo bancario italiano e non poteva certamente correre il rischio default. Però come si è salvato quello con molta meno risorsa si doveva mettere mano a Banca Etruria. Questo non è stato e ne abbiamo subito. A suo tempo lei ha detto prego Maria Elena Bosch e suo padre di non farsi vedere ad Arezzo. Si sono fatti vedere poi ad Arezzo. Devo dire di no. Lei aveva detto di volerli portare anche in tribunale, almeno di fare una causa per danno di immagine alla città. È stata fatta poi quella cosa? Dunque non è stata fatta perché ancora non ho un parere definitivo da parte dei legali a cui è stata affidata l'analisi di questa criticità. Io ho sempre detto non che gli facevo causa ma che avrei indagato con una perizia, una consulenza se ricorrevano i presupposti per. Non ho in questo momento ancora la certezza di poter andare avanti per questa strada. La città ha accusato però inevitabilmente questo passaggio, questo colpo. Adesso sta provando a rialzarsi, ce l'ha fatta? Ma secondo me sì, alla fine la città si è rialzata. L'anima produttiva della nostra economia, che è quella legata al manifatturiero, in particolare al manifatturiero orafo, sta lavorando, devo dire, con grande orgoglio bene. Perché lì la crisi era arrivata prima. La crisi era arrivata prima, era indipendente da Banca Etruria. Banca Etruria ci si è sommata e ci si è sommata nel modo peggiore. Tutti coloro che hanno una realtà industriale, artigianale, buona, che vuol crescere, hanno bisogno di credito. E il credito lo vai a chiedere alla banca che ti conosce, che sa che tu da 40 anni hai sempre coperto tutti i fidi o i prestiti che ti sono stati affidati. Come fai oggi ad andare a parlare con colossi, la cui mente pensante è altrove, che non ti conoscono esattamente, rispetto ai quali non puoi spendere il tuo curriculum passato. È stata una forte botta, però devo dire che il settore ha reagito bene, perché oggi il comparto orafo alla fine perde soltanto lo 0,2% annuo, che è praticamente farla pari. Questo vuol dire che quel settore tiene, non perde e tiene. Però non cresce, questo è il grande tema della mia città. Non cresce quindi come fa a svilupparsi la città. Ecco che la mia amministrazione ha puntato tutto sul rilancio culturale e turistico di Arezzo. E diceva, Arezzo ha pagato un prezzo molto pesante per lo scandalo bancario, ma in questo mese non solo Arezzo, ma quel territorio sta pagando molto per le 45, per la chiusura del viadotto. Anche. È stato un mese molto difficile, che ha messo anche in ginocchio tante aziende. Tante aziende che lavorano, diciamo, fuori da... E chi è la responsabilità, Sindaco? Eh, dura da dire. La responsabilità, indubbiamente, è chi ha sottovalutato il problema o chi non ha avuto strumenti economici e finanziari per poterlo risolvere. Perché io non credo che Anas non sapesse che quegli adotti avevano dei margini di criticità tali da produrre nel tempo un potenziale di servizio. Se lo sono trovati tra capo e collo nel momento in cui non erano ancora pronti per i lavori di consolidamento. Ci voleva un cercatore di funghi trovando dei ferri esposti sotto un viadotto enorme, perché poi, insomma, l'abbiamo visto nelle immagini, non si sta parlando di un ponticello. No. No, tra l'altro devo anche dire che il viadotto che è stato temporaneamente limitato al traffico è una piccola parte dei viadotti che hanno quei problemi. Quello è il viadotto Puleto, ma c'è il viadotto Totevere che ce ne ha altre tanti. Non dico se non peggio, ma ce ne ha altre tanti. Devo anche dire però che... Non le spaventate, non è che si chiude. No, devo anche dire però che Anas aveva già predisposto le gare di appalto e credo che le avesse già affidate, sia per l'un viadotto che per l'altro. Si è detto anche di Genova. Uno con 2 milioni e mezzo di euro e l'altro per 20 e passa milioni di euro. Quindi alla fine i soldi erano arrivati per rimetterli a posto. E direi a questo punto sono arrivati tardi, perché qualcuno si è accorto, forse tardivamente, che c'erano dei problemi di criticità, rispetto ai quali però sono stati fatti dei passi e alla fine si è convenuto che con una riduzione di carreggiata, con una riduzione di velocità, con una riduzione del carico che transita sul viadotto, questo può essere riaperto. Ricordiamo, è proprio il passaggio dei tir che mette in ginocchio il tessuto economico, perché ancora la merce viaggia su due buoni. I percorsi chiaramente si sono dovuti modificare radicalmente. Cioè non c'è un'alternativa lì, eh? No, dalla Romagna chi è che deve andare verso Roma, ma purtroppo si deve prendere l'A14, andare a Bologna, fare l'Appennino e andare verso Sud, che è un percorso che i trasportatori avevano da tempo abbandonato, non fosse altro che perché l'A14 e l'A1 sono a pagamento. L'A45 è gratuita, quindi tutto il traffico commerciale... C'entra nulla, vero, sulla sua manutenzione, questo aspetto? Come? Se è stata a pagamento, sarebbe stata mantenuta meglio? Ma non lo so, non credo. La domanda è questa, perché... Dottor Polcevera era a pagamento. Oh, ecco, il Ponte Monandi era a pagamento e viene giù. Qui è gestita dall'ANAS, quindi dai privati. Qui è gestita dall'ANAS, quindi dal pubblico. Il rischio di venire giù, qual è la formula giusta secondo me? Diciamo che, fatemelo dire da ingegnere, purtroppo che capelli bianchi, la manutenzione delle infrastrutture, ma anche degli edifici, del patrimonio pubblico, non è un cavallo di battaglia degli italiani. Cioè noi siamo molto bravi a inventarci cose nuove, anche dal punto di vista strutturale, geniali, ma poi ci dimentichiamo che queste cose nel tempo si deteriorano, invecchiano, vengono percorsi spessissimo da volumi di traffico molto maggiori rispetto a quelli per i quali erano state progettate e devono essere necessariamente manutenute. Ecco, noi non abbiamo nelle nostre corde il tema della manutenzione programmata. In genere andiamo a fare manutenzione quando ci accorgiamo che il bene si sta deteriorando ed è già un po' tardi. Che effetto le fa quando il Movimento 5 Stelle, bloccando di fatto le grandi opere d'Italia, dice la più grande opera da fare è quella di manutenere le nostre opere. Guardi, è una cosa che ho detto fin da subito. Questa linea del governo, per quanto penalizzante per chi come me cresce, non nella decrescita felice, ma nello sviluppo sostenibile, è però una scelta corretta. Dal punto di vista del padre di famiglia, se io ho una casa che mi cada a pezzi, non mi devo porre il tema di costruirne una nuova, devo mettere a posto quella che ho. Quindi come concetto, come filosofia di fondo è corretta. Nella pratica? Nella pratica bisogna, secondo me, fare una scaletta di interventi, intervenire con urgenza sulle cose più pericolose, più critiche e quelle che possono potenzialmente produrre il maggior danno, come l'AE45 chiusa. E poi però non scordarsi che in ogni caso, se vogliamo crescere, dobbiamo pensare anche alle infrastrutture nuove. Quindi sono d'accordo col concetto, però come al solito, i 5 Stelle sono un po' dei rivoluzionari, per cui o così o pomì. No, beh, pensiamoci e vediamo una parte di questa risorsa di metterla ancora sul nuovo. Parliamo di sanità, Sindaco, perché insomma, qualche mese fa ormai la regione toscana ha lanciato questa rivoluzione delle maxi asle, per quanto la riguarda Arezzo, finita nella maxi asle della Toscana del Sud, che come ampiezza di territorio è grande, quasi come qualche regione. Come sta andando l'attuazione di questo progetto? Lei ha avuto modo di polemizzare più di una volta, insomma. Ma secondo me sta andando malissimo. Ecco. E ve lo dico... Perché è siena centrica? Allora, uno perché è siena centrica, indubbiamente, ma questa è una scelta che ha fatto il governatore, cioè lui ha inteso mettere la leadership organizzativa delle asle nelle città a sede di Policlinico, quindi Pisa, quindi Siena, quindi Firenze. Di università anche. Di università, ovviamente. Questo porta a una penalizzazione quando sulla stessa area insistono altre città, come Grosseto Arezzo e altri capoluoghi, che non hanno quella caratura, rispetto ai quali, io avevo chiesto fin dall'inizio, non si doveva tirare una riga e fare poggio e buca fa pari, perché la sanità rettina storicamente aveva un livello di efficienza molto elevato, sicuramente superiore a Grosseto, ma da quello che ci diceva il direttore Desideri è anche superiore a Siena, quindi non avrei tollerato che si arrivasse ad abbassare il livello qualitativo di Arezzo per concentrare risorse su chi doveva mettersi in pari. E purtroppo invece così è stato, perché le risorse su Arezzo sono diminuite, è diminuito il personale, le risorse necessarie per rimettere in linea le strutture ormai invecchiate, problema manutentivo, del Sandonato, Sandonato è invecchiato, si è fatto molto poco per mantenerlo in condizioni a penale di decenza, oggi piove nelle sale operatorie, pochi giorni fa è venuta giù una porta dentro una sala operatoria che per poco non ha preso il paziente, cioè ci siamo dimenticati che usando tanto una struttura questa invecchia più velocemente che una che viene usata poco e ad Arezzo non abbiamo avuto risorse. Ma io quello che contesto è sì il fatto che Arezzo non ha ricevuto un danno da questa gestione diciamo di macroarea, quanto il fatto stesso della scelta di andare a una maxi-asl, cioè a una struttura amministrativa così grande che va dal Monte Capanne al Monte Falco, che è difficilmente percorribile, che non è sufficientemente infrastrutturata a livello sanitario. Costa meno, perché doveva costare meno tutto questo, almeno nella teoria, no? Non mi risulta, ma non ho dati per poterli esprimere in maniera compiuta. Ma al netto di tutto, che costi più, che costi uguale, che costi meno, il servizio che viene reso ai cittadini, e parlo quelli di Arezzo, è sicuramente in calo. A proposito di servizi per i cittadini, in questo maxi-territorio, se guardiamo la asla, insomma, che è quella della Toscana del Sud, politicamente tira un vento unico adesso. Pertomeno per i capoluoghi. Per i capoluoghi, adesso che anche Siena è finita nelle mani del centrodestra. Nelle mani del centrodestra è molto brutto da dire. È stata conquistata dal centrodestra. È andata al centrodestra. La provincia di Arezzo, anche come ente, semmai continua a servire a qualcosa, perché c'è un grosso punto interrogativo anche su questo, è stato conquistato, va bene così, dal centrodestra. Andate d'amore e d'accordo. Cosa può portare questa unione politica con tutti lo stesso segno? Ma allora, sicuramente una comunità di intenti per rendere un buon servizio ai nostri cittadini non ha discapito degli altri. Quindi una buona capacità di interfacciarsi su temi concreti, che poi sono sempre quelli legati ai servizi. Vale per la sanità, ma vale per i rifiuti, vale anche per altri servizi. Vale per il gas, vale per l'acqua. Certamente le città rimangono comunque separate, divise con le loro storie e le loro tradizioni. Ma il fatto che ci si possa intendere, se non altro, ad esempio, per la nomina del nuovo direttore dell'azienda sanitaria di area vasta sud-est, abbiamo trovato un accordo e abbiamo chiesto al governatore Rossi di ascoltarci. E lui ci ha ascoltato, poi ha fatto come è parso, però ci ha ascoltato. E quindi già questa è una novità. Fino a qualche mese fa, vedo dei mossi nello schermo, fino a qualche mese fa appunto non sarebbe stato possibile. Per ora gli effetti non arrivano, perché comunque la Regione, nel giusto o nello sbagliato, ha una sua autonomia che impone, e quindi vedremo. Ecco, a proposito invece dei risultati delle amministrative in Abruzzo, immagino che sia soddisfatto. Assolutamente sì. E come lo vede questo brusco calo del Movimento 5 Stelle che da 40 ha basato al 20? Ma guardi, secondo me... È di merito del governo o dei... Allora, secondo me è l'effetto delle prese di posizioni, come si diceva prima, eccessivamente inamovibili, che però stanno nel contratto di governo, che il Movimento 5 Stelle porta. Io credo che un, tra virgolette, danno, se lo vogliamo chiamare così, che gli derivi dalla posizione intransigente che a fino a oggi, perlomeno, hanno preso sulla TAV, sulla Torino-Lione. Ecco, cioè quello è un corridore europeo. Questo conferma la bipolarità, ma nel senso psichiatrico del termine del governo di cui parlava prima. perché il Lega invece è perfettamente convinta che questa infrastruttura debba finire di realizzarsi, ma non soltanto perché costerebbe più smettere di costruire che non far nulla, ma perché siccome è un corridoio infrastrutturale europeo, non si può all'Italia porre come collo di bottiglia a un qualche cosa che è stato deciso a livello di Unione Europea. Risulteremmo veramente la palla al piede dell'Europa? Non dobbiamo essere... Finalmente anche lei non parla di Europa come di un animale esterno, di un cattivone che ci governa. Noi ne siamo orgogliosamente parti, io sono convinto europeista, lo sono da quando avevo 18 anni e credo che si debba lavorare per trovare la colla europea. Io frequento abbastanza Bruxelles per i vari progetti che vado a ascoltare in quella sede sia per le proposte che vado anche a fare. E quello che si sente dire più spesso è il tema della colla, del collante. Stiamo cercando un collante per l'Europa. Cos'è che ci unisce? Secondo me possono essere una per tutte le politiche culturali. Nel senso che l'Europa dei governi europei, degli stati europei di Mazziniana Memoria non è possibile. Ed è dimostrato. L'Unione Europea legata dal collante economico ha funzionato male perché oggi abbiamo gli stati che sono andati in default, ma abbiamo forze di disparità tra chi traina e chi è trainato. C'è un qualche cosa che ci potrebbe unire tutti ed è veramente la politica culturale europea. E anche la pace, posso aggiungere, che è il principale obiettivo che ha raggiunto l'Europa. Parlavamo prima di politica, del vento che soffia, in questo caso, della Toscana del Sud ma che insomma a centrodestra inizia a governare tanti capoluoghi. Qualche settimana fa anche lei è andata a mangiare la bistecca con Susanna Ceccardi. L'avete investita ufficialmente per il 2020? Non l'abbiamo affatto investita ufficialmente. Ci siamo ritrovati fra tanti sindaci dei capoluoghi e insieme a Susanna Ceccardi per discutere dei temi comuni del centrodestra che si propone oggi nei comuni, nelle province e domani in qualche maniera si proporrà in regione. Insomma, la vostra candidata o no? No, ancora no. ha detto non l'abbiamo investita di nulla. Ma nemmeno lei ci ha chiesto tanto. Senti, ancora si fanno polemiche giornata della memoria, giorno del ricordo, hanno un senso questo polemico. Assolutamente no. Ma come mai ancora l'Italia discute su questo? Questo bipolarismo ormai la serata è sulla bipolar. è sicuramente figlio dell'onda lunga della tragedia della seconda guerra mondiale del passaggio della linea gotica da queste parti dove ha lasciato sicuramente più tracce e quindi c'è una secondo me apparente divisione in realtà poi divisione se si va a vedere quello che si dice non c'è perché tutti diciamo che eventi come questi così come la strada di Marzabotto o quella di Civitella non si devono più ripetere e per questo ricordare è fondamentale perché ce lo ricordiamo a noi stessi dando atto che quello che è avvenuto è stato un dramma e una tragedia ma soprattutto per far capire ai più giovani che per quella strada non si va da punte parti e questo è il senso del giorno del ricordo di pochi giorni fa. La cultura diceva la cultura musicale ad Arezzo è molto importante veniamo da un festival che ha premiato tanti aretini non solamente gli artisti sono stati anche gli sbagliatori insomma film mascherati ma c'erano sicuramente grande risultato sì una ribalta importantissima perché Arezzo ed è un mio mantra si vuole proporre nel panorama culturale italiano sicuramente come città della musica anche perché abbiamo l'unicità inventato dei natali di colui che ha codificato il linguaggio universale della musica e quindi Guido D'Arezzo pensavo Pupo Pupo la usa la usa molto bene dal suo punto di vista però la usa e quindi la musica si declina come la musica classica come la lirica l'estate scorsa abbiamo portato il Puccignano all'interno l'onda retina ma anche la musica rock che ha un suo spazio in città non soltanto perché ci stanno i Negrita ci stanno altri gruppi musicali importanti anche lì polemiche però mamma mia anche negli anni no ma perché polemiche perché noi siamo toscani non si riesce a vivere se non si fa polemiche anche col cappuccino che si deve bere la mattina ma non è questo in realtà ci sono spazi secondo me sconfinati dal punto di vista della promozione musicale della mia città che devono essere declinati in tanti modi diversi con i Negrita è nato non un problema ma una dialettica sull'utilizzo di una struttura pubblica sulla quale loro hanno fatto un bellissimo progetto e sul quale io li invito a venire al mio tavolo a parlare perché nulla è chiuso basta capire è un appello via diamo un appello assolutamente ma non perché sono stati a Sanremo perché sono un gruppo di valore e nessuno gliene ha mai tolto il merito benissimo grazie grazie Alessandro Ghinelli grazie Nicola Vasai la pancia non è finita restate qui con noi la linea va alla regia e poi torniamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti